Spostarsi con i mezzi pubblici fa bene all'ambiente, ma di certo non al portafoglio, almeno a Torino. Sono state infatti approvate in Sala Rossa le nuove tariffe per il trasporto pubblico gestito da GTT, che entreranno in vigore il 1 febbraio 2012. Il biglietto di corsa semplice costerà 1,50 euro, fino ad oggi costava 1 euro, e il ticket per la tratta urbana più suburbana passa da 1,50 euro a 1,70 euro. Almeno sale il tempo di validità, da 70 a 90 minuti, all'interno dei quali si può fare anche una corsa in metropolitana, ma non ci sarà più la seconda convalida. Il carnet da 5 biglietti costerà 6,50 euro, 1,30 euro a biglietto, mentre quello da 15 costerà 17,50 euro, vale a dire 1,17 euro a biglietto, e saranno validi con lo stesso costo anche nelle tratte suburbane, limitatamente comuni della prima cintura. Restano invariati gli abbonamenti per disabili, disoccupati e studenti, mentre per i bambini fino a 11 anni il biglietto sarà gratuito. Le agevolazioni per gli anziani saranno valide a partire dai 65 anni, ma solo in caso di reddito al di sotto dei 36.000 euro. L'abbonamento annuale e personale costerà 310 euro, da 290 euro, più 7%. L'abbonamento settimanale passa a 12 euro, con un più 26%. La delibera ha ottenuto 22 voti a favore e 6 contrari. È stata approvata con gli emendamenti della maggioranza. Il PDL ha lasciato l'aula in segno di dissenso con il provvedimento, così come Torino libera.